Ho percorso, fai bene. Bravo, dai facciamo ancora una volta qui giusto. Bravo, dai facciamo ancora una volta qui giusto, brava, lega anche questo qua, brava, adesso prendo il nero, posso fare il nero, posso fare il nero, dentro, così, go, 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 go , bu, go, 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 go. Mi ha fatto la linea, eh? Dai facili, ok, allora ho, 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 un po' di qua, e poi... dai ancora uno un percott ancora un levante ho fatto un po' di qua 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 all'interprete d'arcat Questa è inibile. Pronto? Sì. No, no. Ok. C'è dietro la gamba però. Bene, dai fai il contrino. Prova a fare con lì. Cuорli. Ci sarà mai libera che dici. No. Questa è la gamba. Questa è la gamba. Questa è solo la gamba. Questa è la gamba. No Oh Bravo, leggero, leggero E' un po' 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 Qua, neve qua, neve!